Si inserisce all'interno del programma Pianella Sicura la nuova piattaforma per elisoccorso inaugurata a Pianella nei pressi dello stadio comunale in Contrada Nardangelo. Il progetto ha visto la volontà dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Marinelli di accrescere tutti i livelli di sicurezza sanitaria e di protezione civile a partire dalla campagna sui defibrillatori posizionati nei punti strategici della città oltre alla realizzazione del Palatenda che in questo periodo di pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nella campagna di screening. L'idea era quella di offrire l'opportunità ai mezzi di soccorso aereo, gli elicotteri in particolare, di poter avere un punto di approdo sicuro per l'intero comprensorio quindi questa è una piattaforma che rimane illuminata anche permanentemente di notte quindi in qualsiasi momento una necessità di protezione civile piuttosto che di soccorso sanitario può arrivare in sicurezza e sapere che ha un approdo baricentrico rispetto a tante altre realtà territoriali oltre che a quella pianellese. La piattaforma è stata realizzata grazie ad un finanziamento regionale di 95 mila euro nell'ambito della finanziaria 2020 a cui sono stati aggiunti 20 mila euro di fondi comunali. È una soddisfazione della regione Abruzzo che ha contribuito con la finanziaria 2020 a finanziare, a cofinanziare con un bel importo questa realizzazione e anche una soddisfazione per questa amministrazione, per sindaco perché ha dotato il territorio di una infrastruttura che speriamo non venga mai utilizzata ma che comunque insomma è importante per tutta questa, per tutta l'area Vestina. Le nostre valli, i nostri promontori, montagne alternate a sua volta da pianure, la costa, l'entroterra, comporta sempre dei tempi di raggiungimento molto complessi ed estremi e quindi avere queste infrastrutture dislocate sul territorio in luoghi ben accessibili e facilmente poi individuabili è sicuramente un passo avanti per favorire l'emergenza sul territorio e la gestione dell'emergenza sul territorio. L'atterraggio inaugurale è stato effettuato da un elicottero della Guardia Costiera, mezzo abilitato al volo notturno nella nostra regione. Faccio i miei complimenti al comune di Pianella e alla regione che ha finanziato questa importantissima opera come detto prima, poc'anzi il sindaco strategica perché per i nostri velivoli che sono altamente operativi e specializzati è un punto d'appoggio di riferimento nelle operazioni di soccorso a tutti i livelli visto che viene impiegato anche nei dispositivi di protezione civile e quindi anche nelle aree retrostanti alla fascia costiera.